Allora, con Simona Lisi, un'atleta napoletana, sei stata la prima donna a tagliare il traguardo, come è andata questa gara? Sì, sì, sono stata la prima donna, è andata molto bene, mi sono divertita, è stato molto emozionante e mi è piaciuta, come prima esperienza è andata bene. Senti, hai intenzione di ripetere questa esperienza e soprattutto se hai avuto qualche difficoltà durante il percorso con il vento che stava cominciando ad aumentare un po'? Allora, di difficoltà niente, perché comunque allenandomi tutto l'anno non trovo alcuna difficoltà e spero che l'anno prossimo io possa ripetere questa esperienza. Sei in vacanza qui, è la prima volta oppure vieni abitualmente? Come hai visto Ischia e soprattutto hai potuto partecipare ad una gara, quindi ha la tua passione che è il nuoto anche qui che sei in vacanza? No, io vengo in vacanza qui da quando sono nata, avendo la casa, ma la vedo un'isola bellissima, Ischia.